Il progetto per la nuova viabilità è da viaccia a Montemurlo. I sindaci di Prato, Firenze e Pistoia danno l'occhè al ritorno di pubblico e mani pubbliche, ma i comitati non ci stanno. Anche a Prato ieri si erano occhi all'insù per ammirare l'eclissi totale di Luna, la più lunga del secolo. Senza il ripescaggio del club in Lega Pro, i ragazzi del settore giovanile del Prato saranno retrocessi nei tornei provinciali. Una buona serata dalla nostra redazione, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. In apertura del nostro telegiornale ci occupiamo del completamento della seconda tangenziale. È stato infatti approvato il progetto di fattibilità per la nuova viabilità. È un collegamento molto atteso che produrrà miglioramenti sul traffico di viaccia, ha commentato l'assessore Filippo Alessi. Sentiamo. Via Libera al progetto di fattibilità per il completamento della seconda tangenziale di Prato, che unirà la frazione di viaccia con Montemurlo. La delibera per la realizzazione della nuova viabilità e l'adozione della variante al regolamento urbanistico è stata approvata dal Consiglio Comunale. Il nuovo tratto della seconda tangenziale collegherà il viale Unione Europea con Via delle Lame, risolvendo così l'annoso problema del traffico pesante che transita sul Via Pallarciano. Per consentire la realizzazione dell'opera il Comune di Prato verserà 200.000 euro, altrettanti saranno a carico del Comune di Montemurlo, che continuerà così a ripianare la quota mancante nei lavori della seconda tangenziale. Un'opera strategica che vede l'impegno di quattro comuni, oltre a Prato e Montemurlo, Quarrada e Agliana. Siamo stati sollecitati più volte sia dagli abitanti di Via Pallarciano, ma io direi in generale da tutti gli abitanti di viaccia, perché c'è la forte speranza che questa piccola opera, perché in fin dei conti l'8-6-A è un piccolo tratto della seconda tangenziale, risolva i problemi di attraversamento dei mezzi pesanti della frazione, sicuramente li risolverà quelli di Via Pallarciano, che diventa una strada senza sfondo, quindi sicuramente loro avranno un beneficio immenso, però anche quelli degli abitanti di viaccia. E quindi, diciamo, una volta risolta una piccola querella che era nata nel comune di Montemurlo e che adesso è appianata, finalmente possiamo dare via a quest'opera che, ripeto, è molto piccola, chiaramente, però dovrà fare tutto il suo inter burocratico. Che tempi ci saranno per la sua realizzazione? Ma intanto in questi giorni stiamo facendo l'acquisizione bonaria delle aree, il proprietario sembra disponibile appunto a arrivare a un accordo bonario e subito dopo faremo chiaramente l'esecutivo per la mettere in gara e quindi, insomma, è ipotizzabile che prima della fine dell'anno si possa cominciare quest'opera e poi di per sé è un'opera che di costi effettivi, di 200 mila euro stanziati, sono circa 140 mila di opere effettive e che vede un lavoro inferiore ai sei mesi, quindi, insomma, i cittadini non dovranno attendere moltissimo per vedere l'opera. Taglio del nastro per la strada che unisce via dell'industria via Labriola nella zona industriale di Montemurlo. La nuova arteria è stata realizzata nell'ambito delle opere di urbanizzazione della COFIL, un'azienda tessile che riunirà la produzione in due grandi stabilimenti a Bagnolo. Cresce sempre di più il distretto industriale montemurlese con una nuova via di collegamento dedicata, non a caso, a Enrico Mattei, uno dei protagonisti del miracolo economico dell'Italia del dopoguerra. Taglio del nastro ieri sera per la nuova strada che unirà via dell'industria via Labriola, cuore pulsante del distretto montemurlese. Abbiamo intitolato a Enrico Mattei, che è stato uno dei personaggi più importanti dell'economia del dopoguerra. Nascerà una grande impresa del nostro territorio dove ci saranno fonti di sviluppo e su questo noi siamo molto contenti perché si genera anche nuova occupazione che va a continuare quel trend positivo che abbiamo avuto in questi anni. Lunga circa 400 metri, dotata di un marciapiede e di una nuova illuminazione, la strada è stata realizzata dalla Cofil, azienda specializzata nella realizzazione di filati di qualità, che riunirà la produzione in due grandi stabilimenti nella zona di Vialeccia-Bagnolo. Stiamo inaugurando lo stabilimento della Cofil dopo 7-8 anni che questo progetto andava avanti e è una grande soddisfazione per noi. Cercheremo di andare avanti con lo sviluppo del territorio e cercare di tenere duro nel settore tessile, che è un settore sempre più difficile, però noi ci crediamo e speriamo di poter continuare a lavorare qui. La Giunta Lorenzini, infatti, approvando la Convenzione per l'attuazione dell'ampliamento dell'azienda, ha quindi previsto una serie di importanti opere di urbanizzazione che la Cofil realizzerà a scomputo degli oneri, per un valore di circa 600 mila euro. E la prima opera è proprio via Enrico Mattei. La Cofil si occuperà inoltre del rifacimento della rete fognare su via Bisenzio e via Parugiano di sotto. È una importante dotazione infrastrutturale al centro della nostra area produttiva, una nuova viabilità che permette di collegare via dell'industria con via Labriola. È una nuova strada che abbiamo voluto intitolare come via Enrico Mattei, proprio per la voglia di ricordare una persona che è stata molto importante nel secondo depoguerra per lo sviluppo economico del nostro paese. Una persona che si è resa protagonista col suo lavoro e la sua longimiranza del miracolo economico dell'Italia, con la trasformazione dell'Agip, da un'impresa da liquidare all'AENI che conosciamo, che ancora oggi è la più importante realtà produttiva del nostro paese. Passiamo adesso alla cronaca d'Ublitz antidroga dei carabinieri che ieri hanno arrestato altrettanti spacciatori. Il primo pusher finito in manette a un ventenne nigeriano pregiudicato e irregolare, sorpresa a spacciare eroina ad un tossico dipendente in via Zarini. Il secondo arresto è avvenuto invece ieri sera in via d'Acquarata, dove i militari della stazione di Iolo, dopo diverse ore di osservazione, hanno fermato un trentenne marocchino pregiudicato, notato a spacciare cocaina all'interno e nelle vicinanze del bar Alex. Sei le dosi di cocaina sequestrate all'uomo, in parte custodite nei propri indumenti e in parte nascoste nei cespugli davanti al locale. Il bar Alex di via d'Acquarata era già stato sottoposto nel maggio scorso ad un controllo da parte dei NAS, che avevano multato il titolare per carenze igienico-sanitarie e per cattiva conservazione degli alimenti. I sindaci delle aree di Prato, Firenze e Pistoia danno parere positivo al ritorno di publiacque e mani pubbliche, ma il forum toscano dei movimenti, che da anni si batte per l'acqua bene e comune, non ci sta e parla di false promesse. Sentiamo. Trasformare Publiacqua in una società interamente in mani pubbliche, superando così l'attuale modello misto pubblico-privato, e passare ad una realtà in house. È l'indirizzo dato dall'Assemblea dell'autorità idrica toscana da parte dei sindaci della Conferenza Territoriale 3, ovvero dell'area metropolitana di Prato, Firenze e Pistoia. La decisione, che darebbe anche attuazione alla volontà popolare del referendum del 2011 sull'acqua pubblica, nasce da lontano, ma ha preso corpo nelle ultime settimane dopo la presa di posizione del sindaco di Firenze Dario Nardella e del presidente della regione Enrico Rossi. I sindaci hanno adesso avviato un percorso inverso alla privatizzazione in atto dagli anni 90, che ha portato alla nascita di Publiacqua, il cui 60% è di proprietà dei comuni, Firenze ha il 22%, Consieg, all'interno della quale Prato pesa per il 36%, detiene il 25% delle quote, mentre il restante 40% di Publiacqua è adesso in mano a pubblici e privati, tra cui Acea e Suez. E noi, a differenza di altre realtà, penso Livorno, che invece la concessione l'ha prorogata, insieme a Firenze abbiamo deciso di fare un percorso che riporta l'acqua nella gestione dei comuni. Lo strumento individuato, ovviamente andranno fatti tutti gli approfondamenti giuridici, tutti gli approfondamenti legali, può essere quello dell'In-House. Questo comporta ovviamente una riorganizzazione del servizio, però noi siamo pronti a farlo, pensiamo di avere gli strumenti per poter gestire in maniera più efficace per i cittadini, con costi più contenuti, quello che è un servizio fondamentale per le nostre comunità. Quanto deciso da tutti i sindaci dell'area metropolitana, compreso il primo cittadino di Pistoia, Tomasi, di centrodestra, verrà ora sottoposto all'Assemblea regionale dell'autorità idrica toscana competente in materia. E se il gruppo PD in Consiglio Comunale a Prato e le amministrazioni di Poggio a Caiano e Carmignano rivendicano la scelta del ritorno alla gestione pubblica, il Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua parla di specchietto per le allodule in vista delle prossime scadenze elettorali. Secondo il Forum, la storica correzione di linea dei comuni ha molti punti oscuri, a cominciare dalla deroga di due anni, prospettata rispetto alla scadenza del 2021 per la concessione al gestore pubblica acqua. Un modo per riuscire a spalmare in tempi più lunghi il notevole sborso da liquidare ai soci privati dell'azienda idrica. Per questa ragione, commentano i comitati, non si ripubblicizza il servizio nel 2021 ma chissà quando. Non solo, il Forum dei Movimenti per l'Acqua mette in guardia da aumenti in bolletta dell'8% prospettati nel biennio 2020-2021 dopo le scadenze elettorali del prossimo anno. L'assessore al personale ai sistemi informativi del Comune di Prato, Benedetta Squettiare, è stata nominata responsabile nazionale del Dipartimento Innovazione del Partito Democratico. Ringrazio il PD per la fiducia, affronto questa nuova avventura con il desiderio di mettere a disposizione il lavoro e l'esperienza fatta a Prato e in Anci nel campo dell'innovazione, commenta Benedetta Squettiari. Soddisfazione arriva anche dal segretario provinciale del PD, Gabriele Bosi, secondo il quale questa nomina valorizza la federazione e riconosce il lavoro compiuto dalla Squettiari nella giunta Biffoni proprio su questo argomento. Dopo un periodo nel quale le cronache e il dibattito cittadino si sono concentrati sul problema della mancanza di un ufficio a Prato della motorizzazione civile, assistiamo ad un prolungato e una preoccupante silenzio. A riproporre la questione il Comitato Provinciale Area Pratese che tramite la Prefettura si era battuto nei mesi scorsi per ottenere dal Ministero dei Trasporti la riapertura degli sportelli della motorizzazione a Prato. Il Comitato si rivolge adesso ai deputati e ai senatori pratesi affinché presentino un'interrogazione parlamentare sul tema. Anche a Prato in tanti ieri sera hanno rivolto gli occhi verso il cielo per ammirare la più lunga eclissi lunare del secolo. Una luna che è apparsa insolitamente rossa. Il direttore della Fondazione Parsec Marco Morelli spiega il perché nell'intervista. Sentiamo. Ieri sera anche a Prato è stato possibile ammirare lo spettacolo dell'eclissi totale di Luna da un punto di vista astronomico come si spiega questo fenomeno? È davvero così speciale? Sì, è un fenomeno particolare che non è raro come l'eclissi di Sole ma è un fenomeno che si ripete appunto in genere ogni pochi mesi o pochissimi anni. Tra l'altro il prossimo sarà a gennaio del 2019. Però quello di ieri è stato un fenomeno particolarmente bello perché la Luna è transitata nel cono d'ombra che la Terra proietta nello spazio a causa dell'illuminazione dei raggi solari e all'interno di questo cono d'ombra è rimasta per molto tempo perché si sono mossi contemporaneamente all'interno del cosmo e è transitata poi nel centro del cono d'ombra quindi nella parte più scura e questo ha fatto sì che la Luna quasi sparisse dal nostro cielo dopo essere stata e per poi ritornare rossa. È stato un po' quello che ha affascinato le persone. Ecco, questa colorazione rossa come si spiega? Sì, la colorazione rossa è semplicemente dovuta al fatto che è bassa l'illuminazione che riceve dai raggi del Sole che in qualche modo colpiscono anche il bordo diciamo così della Terra e proiettano una penombra oltre che un'ombra vera e propria. Quindi ecco, è la colorazione legata al fatto che sia transitata prima nella parte del cono di penombra. Se noi guardiamo gli oggetti effettivamente in penombra hanno questo colore brunito poi lì interviene anche l'atmosfera terrestre e la colorazione stessa del fondo lunare che è il grigio che accentuano questa colorazione rossastra. Peraltro rimanendo sul rosso affascinante come fenomeno perché la Luna era accompagnata in congiunzione da Marte il pianeta rosso per eccellenza e soprattutto nel momento del picco dell'eclissi alle 22 e 22 Marte si vedeva appena sotto alla Luna con questa colorazione rossastra era una bellissima accoppiata. Da un punto di vista astronomico quali sono i prossimi eventi eccezionali da non perdere? I prossimi eventi eccezionali purtroppo visibili da qua non sono tantissimi appunto come dicevo prima il 19 gennaio ma all'alba la mattina alle 5 del 2019 ci sarà un'altra eclisse di Luna un'eclisse che non sarà come quello di ieri la Luna transiterà nella parte di penombra del cono che la Terra proietta nello spazio però chi avrà voglia di alzarsi molto presto e di prendere un po' di freddo visto la stagione potrà comunque ammirare nuovamente questo spettacolo per altri eclissi soprattutto di sole che sono un po' più affascinanti dovremo aspettare qualche anno ancora. E parliamo adesso di arte Gian Piero Poggiali Berlinghiari 50 anni e questo è il titolo della collezione permanente del volume edito dall'archivio Carlo Palli con la collaborazione della Fondazione Opera Santa Rita in occasione dei 50 anni di attività dell'artista ieri pomeriggio l'inaugurazione presso la sede del Santa Rita di Via Diaz e Cappuccini vediamo 50 anni di attività quali sono le opere che lei propone in questa mostra? Allora un po' tutto il periodo lavorativo di questi 50 anni dagli anni 70 fino al 2018 scelto delle opere abbastanza significative del mio lavoro per poterle portare qua Quali sono le opere più significative? Beh insomma c'è chi dice quelle degli anni 70 però io sono quello per il 2018 mi sembra che le ultime cose siano sempre quelle migliori certamente non è così però insomma è per questo che lavoro sempre con entusiasmo perché sempre cerco sempre di migliorarmi L'opera Santa Rita si occupa principalmente del sociale ma non solo qual è l'importanza che voi riservate alla promozione culturale? Ma è un soggetto come Santa Rita che opera appunto prevalentemente nell'ambito che lei richiamava credo abbia anche il dovere in qualche modo di richiamare ai valori sottesi a quello che facciamo e il mondo dell'arte e della cultura in genere credo che possa offrire tanti spunti rispetto ai valori che sono sottesi a quello che noi quotidianamente facciamo in termini di accoglienza dei più fragili dei più deboli e così via da tempo abbiamo abbiato questa collaborazione con l'archivio Carlo Palli che ci mette in contatto con tanti artisti importanti uno di questi appunto è Poggiali Berlinghieri del quale oggi illustreremo attraverso un catalogo la sua opera e sarà anche l'occasione per mettere ulteriormente alla ribalta le opere che abbelliscono il nostro salone la nostra sala riunioni e che da alcuni mesi sono qui e che insomma abbelliscono e in qualche modo ci richiamano anche ai valori e all'espressione artistica che sottintende dell'opera di Poggiali Berlinghieri Qual è l'importanza della promozione dell'arte contemporanea nel territorio toscano? Beh, io credo che tutto quello che è contemporaneo ci riguarda riguarda il nostro presente ma anche il nostro futuro e quindi Prato che è la città che ha visto la nascita del centro Pecci è punteggiata da tante iniziative che riguardano il contemporaneo di questo possiamo avere una sorta di primogenitura e quindi tutto quello che è contemporaneo è innovazione è intraprendenza e in qualche misura connota anche la nostra identità di città E ci occupiamo adesso dell'Aci Prato per le squadre del settore giovanile sono infatti giorni di apprezzione in caso di mancato ripescaggio in Lega Pro i 300 ragazzi tesserati parteciperanno infatti ai campionati provinciali le pianticelle biancazzurre sono a rischio potatura c'è apprezzione tra i 300 tesserati e i 60 componenti dei vari staff tecnici del settore giovanile del Prato che restano in attesa della decisione definitiva della Lega di Serie C riguardo la richiesta di ripescaggio la mancata risalita in Serie C del Prato ad oggi l'ipotesi più probabile dopo i tanti punti oscuri della trattativa per la cessione del club che hanno spinto il comune a dare un sì condizionato alla concessione dello stadio sencerebbe la fine delle formazioni berretti under 17 categoria che l'anno scorso ha portato il titolo di vice campioni d'Italia ma anche under 15 giovanissimi professionisti e giovanissimi B infatti queste formazioni fiore all'occhiello della società e punto di forza del business del club di Toccafondi nel caso in cui il Prato dovesse partecipare al prossimo campionato di Serie D saranno costrette a giocare nei campionati provinciali di Prato un triplice salto indietro che porterà di fatto allo scioglimento delle squadre e alla richiesta di gran parte dei componenti della rosa dei giocatori di lasciare il sudalizio biancazzurro la vicenda è seguita con attenzione anche dai dirigenti della Lega di Serie C che oltre a perdere una delle società con maggiori risultati negli ultimi anni vedrebbe mancare un club che in due campionati professionisti giovanissimi 2015 e giovanissimi 2016 era pronta a presentarsi ai nastri di partenza con due squadre in queste ore sono state molte le richieste di chiarimenti da parte delle famiglie dei 300 ragazzi del settore giovanile al responsabile Matteo Silvestri che ha rimandato tutto all'esito del ripescaggio anche il ritiro estivo delle formazioni giovanili che era stato fissato per il 9 di agosto a Fiumalbo è per il momento congelato ed è il momento dell'agenda scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in programma a Prato e dintorni domani domenica 29 luglio decima a Prato doganaccia alle ore 8 partenza presso la misericordia di Prato della Gran Fondo di Ciclismo a cura del CSI di Prato dalle ore 19 al Parco dell'Albereta di Mercatale di Vernio ultima serata della Festa della Misericordia di Vernio stand gastronomici e musica dal vivo alle ore 21 al Giardino Buonamici Ludus in tavola 5 serata ludica con giochi da tavolo e di ruolo con tornei a squadre e individuali in serata al Circolo di Borgo Nuovo ballo con cinzia con pizzeria e lotteria nell'ambito della rassegna Pallo Estivo 2018 alle ore 21 e 45 al Castello dell'Imperatore proiezione del film Loro 2 lunedì 30 luglio alle ore 21 e 45 al Castello dell'Imperatore proiezione del film La Casa sul Mare alle ore 21 in piazza Matteotti e piazza Vittorio Emanuele II a Carmignano buon compleanno Carmignano celebrazione della nascita del comune e infine alle 21 e 30 al Giardino di Elisabetta gli ex lavatoi di Viaccia proiezione del film Monster Family ingresso libero E con l'agenda è tutto il telegiornale termina qui io vi ricordo l'appuntamento di domani con Prato 7 per rivivere i fatti salienti avvenuti nel corso della settimana e poi le informazioni di TV Prato torna lunedì alle 13 e 45 con il TG del giorno grazie per averci seguito arrivederci e buona serata Grazie a tutti